Cambiano i vertici della sanità lariana. Dal 1 gennaio prossimo ci sarà una nuova guida sia per la SST lariana, l'ex azienda ospedaliera Sant'Anna, sia per la TS in Subria, l'ex ASL. I nomi dei direttori generali di tutte le aziende della Lombardia sono stati designati dal presidente della regione Attilio Fontana nella seduta di ieri della giunta. Al termine di due mandati consecutivi, il direttore generale della SST lariana Marco Onofri, che non poteva più rivestire lo stesso incarico per limiti di età, sarà sostituito dall'attuale direttore sanitario Fabio Banfi, che sale di un gradino e resta all'interno dell'azienda, prendendo nelle redini dal predecessore con il quale ha lavorato negli ultimi anni. Cambio al vertice anche per la TS in Subria, che comprende le province di Como e Varese. L'attuale numero uno, Paola Lattuada, che andrà a dirigere l'Istituto Neurologico Besta di Milano, sarà sostituita da Lucas Maria Gutierrez, attuale direttore socio-sanitario della stessa TS in Subria. I nuovi incarichi scatteranno a partire dal primo gennaio prossimo, quando avverranno gli avvicendamenti. Resta invece l'attesa per la nomina degli altri incarichi di vertice, quelli dei direttori sanitari, amministrativi e socio-sanitari delle aziende lariane e di tutta la Lombardia. Grazie a tutti.